Banda delle cerimonie in azione a Pescara nel corso di un ricevimento al quale erano presenti sia invitati abruzzesi che molisani. In una struttura ristorativa alle porte della cittadina adriatica, in campagna, si stava celebrando una comunione. Mentre gli ospiti erano alle prese con il banchetto, alcuni sconosciuti hanno agito indisturbati nel parcheggio del ristorante, introducendosi nelle automobili in sosta e portando via tutto ciò che di valore sono riusciti a trovare. A quanto pare i malviventi avrebbero rubato soprattutto portafogli. Quando i primi invitati si sono accorti di essere stati derubati, lanciando l'allarme tra gli altri partecipanti ai festeggiamenti era ormai troppo tardi, dei ladri non c'era più traccia. Si tratta di una tipologia di colpo già diffusa anche nelle regioni limitrofe e che viene messa a segno nelle aree parcheggio delle strutture in cui si svolgono feste e cerimonie, in particolare matrimoni, comunioni e battesimi che prevedono pranzi e cene dalla durata più lunga in modo da avere più tempo per entrare in azione. Probabilmente utilizzando un dispositivo che interferisce con il telecomando centralizzato delle auto, i ladri riescono ad aprire i veicoli in sosta facendo spesso man bassa non solo di portafogli, ma anche delle tradizionali busse regalo con i contanti da destinare ai festeggiati. Una conclusione amara, questa volta a Pescara, per una giornata che doveva essere di festa.